Immagini solo di un'estate fa, ma sembrano passati anni. In poco più di sei mesi la giunta Betti ha perso quattro pezzi. Roberto Rossetti se n'era già andato per conto proprio. Lunedì sera invece è stato il sindaco a silurare tre assessori in un colpo solo. La sua vice, Gloria Puccetti, che aveva la delega all'ambiente, e gli assessori Alessandro Auger, deleghe a Turismo e Porto, e Laura Servetti, personale e lavori pubblici. Devo prima di tutto pensare alla città, ha detto Betti, e per tentare di risolvere i problemi di viareggio ho ritenuto opportuno cambiare squadra. Si parla soprattutto di troppi ritardi sui problemi del porto e dei lavori pubblici. Ma che cosa non ha funzionato esattamente nei primi mesi di mandato amministrativo? Il sindaco risponde così. I primi mesi servono innanzitutto anche per verificare, per conoscere, per apprendere, per vedere ciò che è stato fatto, come è stato fatto, dalle varie persone che sono state fatte. Quindi ho tirato le somme e ho deciso che bisogna apportare dei correttivi. Pertanto, nessun problema, la delega è personale, non c'è nessun problema dal punto di vista umano, anzi, sono tutte persone che stimo, cui voglio bene, che c'è un affetto naturalmente, però l'affetto non può prevalere sull'interesse della collettività. Naturalmente rimangono gli assessori, gli assessori d'Alpino, rimane in squadra, l'assessore Fruzza, che ha fatto anche lui un buon operato, rimane l'assessore Caprili, che stimo tantissimo, un grande professionista molto preparato sul bilancio, e Isale Nazerini, che è subentrata, Roberto Rossetti da poco, che sta gestendo anche bene le varie problematiche e rilevanti problematiche che abbiamo in città ultimamente legate ai sequestri che vengono effettuati, e pertanto la squadra è questa e adesso verranno sostituiti altri soggetti. Ecco, i nomi li ha già o almeno i criteri con cui verranno scelti? I nomi non li ho ne ancora perché è successo tutto ieri sera, ho parlato con i giornali, era le 11, pertanto ora bisogna che pensi un attimino, ma le scelte verranno fatte nell'interesse dei cittadini. Grazie.